personality coda piccolissima premessa questo video un video fatto così non ha un senso logico perché non ha una storia perché un gioco che non ho portato nel canale di conseguenza è un video così senza si, senza ma Divertimento e basta Eccoci qua signore e signori Siamo tornati questa volta su Crash Come ho detto all'inizio del video E' un video fatto alla leggera Perché è un gioco che non ho portato Però mi andava di portarlo per cazzeggiare un poco Quindi eccoci qui Questo l'ho fatto Questo e questo l'ho fatto E che cazzo Ho fatto tutto Famo questa Famo questa Famo questa Tombwander Famo questa Tombrider Nel frattempo vi ricordo di lasciare un like Un commento E di iscrivervi al canale Tre regole fondamentali per portare avanti il canale Ho fatto anche la rima Sì 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 Ok Siamo qui con uno scarafaggino Oh Ma what? What? Allora qui presumo ecco Sì sì Eh vabbè Intanto butto tutte le mele E qua cosa dovrei fare? Ok Non devo fare nulla Figa Namo così No vabbè No 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 Questo livello già lo sto odiando Ma popo Oh Cacchio Insomma poi Crash fa di tutto Giravolte saltelli e così eccola e poi muore con un pochino d'acqua Ok Ok Ma Poi mi sono salvato per un pelo Aspetta Torniamo indietro e dopo ci rivado Non si sa mai Non dovrei morire là eh Spero Ok Ok Grande Crash Non muore Ma che cacchio E qua Ah Boh Non so nemmeno io cosa ho fatto Livello bonus Sbloccato per noi ragazzi Signore e signori E volà Sblanked Ma sono un coglione E a questo punto devo ammazzarmi E mi ammazzo nel migliore dei modi Io non ho fatto nulla Riprendiamo il livello bonus Allora Mmm 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 Questa è una bella sfida E one E two E three E four E five E six E mo Come ce vado de là Ma si che ce vado Yeah 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 Come on baby Come on E one E two E three E four E five Voilà Se Non ci credo Ma non ci credo Poco Devo morire di nuovo Capita Erre famolo De che Allora qua aspetta Dobbiamo contare Fammi seri Uno Due Tre Quattro Cinco Uno Due Tre Quattro E cinco E voilà Adesso Adesso Fammo Uno Due Tre Quattro Non cascare Gra Mamma Vabbè A posto Tocche Tocche Ok Mmm Chi è il migliore Su crash Chi è il migliore Su crash 25 su 25 Vorrei ricordarlo 25 Vorrei ricordarlo A tutti voi Ok Dai dai Basta fare il conteggio Di quante me le ho preso Qua mi sa che E infatti Pensavo bene Pensavo benissimo Vai veloce 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 Ok What the god What the god Ah questo volo E' intelligente E' intelligentissimo Sbrigati Ma cosa dice voi sto qua Una botta e via Piglia le mele E vai via Ecco qua Yeah Yeah Altra vitazza Per noi Ah Fega A livello Dalla morte Qua è Non so cosa Ne uscirà fuori Vedremo Vedremo Ok Ok Adesso Via Cavolo Madonna Che culo Via Così 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 Vai 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 Ok Oh Stava per farmi lo scherzetto Non volevi salire su Sì Ancora Ancora No Fai sempre lo stesso scherzo Non ho capito perché Perché scherzi Con me Mamma mia Grande Così 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 Andiamo bene Andiamo Vai Vai E voilà Ho preso anche la gemma speciale Cavolo Però ho finito il livello Ho finito il livello Però ho preso la gemma speciale E quindi non ho preso la gemma L'altra Mi tocca rifare il livello Quindi Mannaya Vabbè Intanto però Abbiamo preso la gemma E voilà E voilà Grande crash Grande E quindi lo rifacciamo Assolutamente sì Tranqui Tranqui Non è successo nulla Rifamo da capo No Vecchio infame Eh Vabbù Ma ce l'ho fatta fare Fessata Alla rapa De sesano Sedano Ok Siamo ritornati al punto di partenza Uno Uno Due Vai così E vai così E vai così E vai così E vai così Guarda che Guarda che trucco Che ti faccio Ecco la gemma viola E one Figlia tutto Figlia tutto Via Todos Ma quando Vai 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 Trottole in Lando Tasmania Tasmania Mamma ma Mamma mia Madonna mia Ho rischiato tantissimo Fambres Sto rischiando eh Fortuna che c'è il checkpoint Sto rischiando E non poco Madonna Peggio di così E intanto le mene Non le prendo Non fateci caso Don't try this at home Mamma mia Non so Non so Vai 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 Ma Tavar normale a te A me non Aspetta Un attimo Un attimo Un attimo di Scarafaggi Ma che animale è poi tra l'altro Mamuro Vai così Vediamo Ma impossibile 88 Vediamo Incrociamo le dita Madonna Ma io so troppo So troppo forte Dovete chiudere Crash Cioè So troppo forte Pensate un po' Se faccio le sfide a tempo The best Is one Ok Abbiamo completato Anche quest'altro livello Abbiamo preso La gemma viola Il diamante E la gemma Speciale Blu Adesso andiamo A sfidare Cosa qua Dottor Jin Jin Non mi ricordo Di cosa si tratta Comunque Anche Addirittura Con coco Bello Ehi Questo usa Troppo autotune Uuu Trasforma Su Lala Figo Fighissimo Troppo Figo Però Una grafica migliore La potevano fare Oh Ok In 2D 3D Ok Fuori uno Oh Chi sapea Dove No Troppo bello Sto livello Voglio farlo Anche Domani E dai Ok Oh Sono tutto Concentrato Giuro E mo A questo Come lo ammazzo Con Come Come Uccido Come Gli distruggo Il braccio Non saprei No 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 Please Please Ok Ok Ho tremato Anche io Dai 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 83% Coco Ok Ok L'abbiamo distrutto Proprio Letteralmente Distrutto Fa vedere Come pia Navicella E va via Come i Transformers Come i Power Rangers Tiger Che cavolo E mo Oh E Troppo bello Per essere Vero E Si è Trasformato E mo Oh Livello Livello Estremo Adesso Lui C'ha la vita Al 100% Io intanto All'83% Cavolo Cavolo Fuori un altro Fuori un altro Fuori un altro Tutto semplice E' finita Alleluia Oh abbiamo distrutto Anche Dottor G Ok Mi gira La testa Orologi E' polsi Come fossi Un gangstar Stammi bene Zio Però comunque Abbiamo completato Anche quest'altro Muendo Ok Basta Dai Non sbagliare così Abbiamo quest'altro Dovrebbe essere L'ultimo mondo E' vero Perché Devo sconfiggere Cortex E nulla Il video termina qui Per oggi Vi ricordo di lasciare Un like Un commento E di iscrivervi Al canale Se volete Che va avanti Il canale Ok Basta così Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi